Oggi parliamo della verdura, una parte importante del piatto della salute. La verdura apporta sostanze preziose, vitamine, sali minerali, composti fitochimici, antiossidanti e fibra. È importante che sia presente sia a pranzo che a cena. Via libera allora a tutte le verdure e ricordate che le patate, pur essendo un ortaggio, non appartengono a questo gruppo. Fresche, locali e di stagione. In mancanza andranno bene anche surgelate al naturale. Sperimentatele nelle forme che preferite e createne anche tante di nuove. E se non vi piacciono le verdure? Ma siete troppo sicuri che le verdure abbiano un cattivo sapore? Avete mai provato ad assaggiarle? Potreste avere qualche bella sorpresa. Sperimentatele per esempio nelle torte salate, nelle polpette oppure dentro alla pasta. Pensate che ogni volta hanno un sapore diverso. Non dimenticatevi poi delle erbe aromatiche come il rosmarino, menta, basilico. Non solo fanno bene, ma rendono anche i piatti proprio speciali. Qualche idea per cucinare le verdure? Muffin di zucchine, pinzimonio fantasia, fungo creativo e spiedini multicolor. E ora tocca a te! Mandaci le tue ricette e partecipa al concorso Io ormangio sano e con più gusto! E condividi anche tu questo video per diffondere insieme la salute. Ti aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti